Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In a 12,2 km di coda tra il raccordo di Rosignano e l'allacciamento per l'Aurelia in direzione Rosignano, in A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico, e in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa-Reggello. Per il ripristino di un incidente fino alle 12, chiusa l'area di servizio di Chianti Est in direzione Bologna. Fino al 18 giugno per lavori, chiuso il tratto della panoramica tra Barberino e Roncobilaccio. Sulla statale 1 Aurelia, chiusi in entrata e uscita gli svincoli di Follonica Nord e Gavorrano in direzione Roma. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!